Eeeh che cazzo però, ok, adesso spostano da lì da lì puoi rientrare da lì si perdeva spostano da lì puoi rientrare da lì spostano da lì puoi rientrare da lì spostano da lì puoi rientrare da lì... spostano da lì... spostano da lì... Grazie a tutti. 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 Qua non uscivo più. Quindi l'ho detto. Porca croia, ma l'ho perso il ritmo però, mi stavò fermato. Però, riposa dai braccia perché l'hai preso un jolly là. Noi sai che poi più vai piano, ci vuoi una pump perché tu vedi la velocità vena sceglie così. che qua mi ammazzo, qua bene o male mi butto ok, dai, vai, vai bravo qua, grande bravo qua perché non era facile non riuscivo a farla scuola perché se gli davo troppo inezia non la fermavo più, dovevo stare la fermi un po' troppo, perché c'è paura che poi sette parti non la fermi più però in quel modo sai quanto sforzo va in più devo cercare compromesso, sta attento, perché c'è la dovuta al lavoro però la bella stravazzata, bella questa tanto quando vai a penduro così, può essere che trovi gli ferrati ora sai che c'è i problemi qua, quello che c'è la fregatoina ma sì, ma infatti quando noi fai i viaggi è arrivato qua bravo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.